Ma sai che l'altra volta no? Hai fatto un numero? Il sei? Il sei o il cinque? Il quattro C'è un po' di poche Oh no! Questa! Vai! Riccola, sta attento che ti faccio accontentare. Cos'è, cos'è? Può ripetere? Non vi ho capito. No, fare il salto. Sì, da dove? Da quello lì? Da lì. Ok. Se lo fa 10 euro, se lo fa vince 10 euro. Nicola vuole 10 euro. 10 euro se lo fa. Dai 10 euro se lo fa, va bene? Come no? Guardalo, guardalo, ci sono 10 euro. Guarda, finchiamo lì. 10 euro. 10 euro, eh. Bravo. Oh 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 moto in mezzo al bosco, queste qua scappano uguale oddio che stile fino al boom fino al boom che merda uuuh ciao cabin ciao cabin ciao 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 ciao